Filippo Legnaro, sindaco di Torreglia, comune che viene messo purtroppo un po' in difficoltà ultimamente dall'arrivo di continui flussi di migranti. Che cosa accade, sindaco? Sostanzialmente sono arrivati qui dei profughi migranti, noi l'abbiamo saputo proprio poche ore prima, ma il problema non è tanto l'arrivo e l'accoglienza dei migranti, ma il problema è la poca informazione che abbiamo avuto da chi ci dovrebbe dare le informazioni. Sindaco, però purtroppo questa lamentela l'ho sentita un po' da tutti i sindaci della zona, cioè che la prefettura non comunica al primo cittadino gli arrivi, come cambiare questa tendenza? Esattamente quello che stiamo tentando di chiedere noi, lo faremo anche domani con il Consiglio Comunale attraverso una mozione, chiederemo che maggiore trasparenza, perché se dobbiamo accogliere lo dobbiamo fare tutti assieme, dobbiamo preparare anche una comunità ad accogliere. Dove sono in questo momento i migranti? Dove sono alloggiati? Sono in una proprietà privata in via Batte Barbieri 10. Però so che c'è un sovraffollamento, sbaglio, di questa villa? Su questo, anche su questo, adesso stiamo facendo chiarezza, nel senso che a noi, dalle planimetrie in mano al nostro ufficio tecnico, risultano X persone che possono essere ospitate lì. In questo momento invece, ecco Officina, che è la cooperativa che ha in carico la gestione della villa in questo momento, quindi i migranti, invece ci parla di altri numeri. Adesso confronteremo questi numeri e cercheremo di capire qual è il numero esatto di persone che possono essere ospitate lì dentro. Sindaco, ma quali sono le paure, se ce ne sono, della comunità appunto? Questi migranti creano problemi di ordine, di degrado? A lei la parola? No, direi proprio di no. Su questo devo tranquillizzare la comunità, tra l'altro l'ho ribadito, Torrella non è un paese razzista, anzi è un paese che sicuramente è in grado di accogliere. Quello che dobbiamo fare però è sempre dare le giuste informazioni alle persone. È chiaro che essere profugo non significa essere delinquente né in automatico essere portatori di malattie. Dobbiamo far passare questo messaggio a tutti i cittadini, però per far passare questo messaggio dobbiamo dare le informazioni corrette.